Vogliamo dire una cosa del costo delle smart drugs? Queste smart drugs che abbiamo visto di origine vegetale o anche le smart drugs di origine sintetica hanno un prezzo accessibile a tutti. Certamente per il loro effetto sono molto care, 20-25 euro anche per questo tipo di spice, per queste bustine o anche per i prodotti che contengono o dichiarano di contenere estratto di cannabis. 20-25 euro per non consumare niente, in questo caso sono troppe o per avere degli effetti allucinatori. Chiaramente però sono quantità di denaro che tutti possono permettersi. E questo chiaramente è il gioco del mercato, ma questo accade con le smart drugs ma anche con le sostanze d'abuso principali. Ormai il prezzo è un prezzo 5-10 euro, un prezzo accessibile a tutte le droghe dei ricchi non esistono più. Grazie. Grazie. Grazie.